oh chicca siccome che mi hanno invitato a matrimonio no vicino all'istano e ci devo andare con questa ragazza se la vedi ti spaventi da quanto è brutta no da quanto è bella e se è bella perché vuole venire con te perché l'hanno faccata all'ultimo momento dove andare con uno che se ne è andato con un'altra capito la mia chiamata per disperazione e niente solo che c'ho il cane che è in condizione un po capito andrebbe lavato curato messo a posto perché insomma è vergogna portarlo vai da valeria le mussole in via neapolis a terralba le mussole esatto presso le mussole oltre il classico servizio di toilettatura effettuano altri servizi come quello di occuparsi del tuo amico a quattro zampe quando invitato a matrimonio lo lavano lo profumano lo sistemano a dovere e lo fanno diventare un figurino capito dai geniale e poi se deve andare in vacanza per uno o più giorni loro si occupano del tuo amico a quattro zampe con la pensione casalinga cioè lo vanno in pensione anche lo accolgono a casa e si prendono cura di lui con la tipologia servizio pensione dandogli affetto prestandogli tutte le attenzioni possibili e immaginabili e facendolo sentire come a casa sua praticamente fa doggote la casa sua grazie del consiglio che ci vediamo e mi raccomando perché non vai anche tu a fartela una bella teoretatura e perché no così